Regionali del Molise, è caos nei due schieramenti che si contenderanno i prossimi 5 anni di governo. La fase di stallo nel centro-sinistra in queste ultime ore è stata infranta dalle dichiarazioni di Andrea Greco, che ha puntato il dito contro gli alleati e contro l'idea di proporre una persona che, ha detto, non ha mai trascorso un solo giorno nelle istituzioni e magari non vive nemmeno più in Molise. Un veto chiaro sul giornalista Domenico Iannacone, quindi dall'esponente radicale dei 5 Stelle, che, dopo l'esperienza di 5 anni fa, vuole riprovarci, proporrò il mio nome, ha scritto in una nota. Il presidente del Tribunale di Sernia Enzo Di Giacomo, il sindaco di Castel del Giudice e Lino Gentile, gli altri nomi circolati in queste ore. Nel centro-destra i dinami tardi sono Salvatore Micone e Andrea Di Lucente, il presidente del Consiglio regionale dell'Udc e il consigliere dei popolari, hanno chiesto l'intervento dei vertici nazionali dei partiti per sciogliere una diatriba che si è infuocata negli ultimi giorni, dopo l'ennesimo nulla di fatto, dal tavolo dei segretari coordinati dal senatore Lotito. L'appello è a indire una riunione a Roma con una rappresentanza di consiglieri regionali, di sindaci, dei due presidenti delle province e dei parlamentari molisani. Questa regione merita rispetto, le parole di Micone e Di Lucente, e poi una risposta chiara a Lotito, che aveva accusato i politici molisani di non aver risolto un solo problema. Le persone che stanno parlando adesso non vivono il territorio e non ne comprendono le istanze. Non abbiamo bisogno di papi stranieri. Non abbiamo bisogno di papi stranieri,